oggi parliamo della skoda fabia sport monte carlo perché il nome monte carlo perché è stato introdotto da skoda nel 2011 come nome per celebrare le vittorie del brand in questa importante competizione e che oggi in gamma indica le vetture con una vocazione più sportiva quindi scopriamo la nostra skoda fabia sport monte carlo nel nostro com'è e come va come è fuori come di consueto partiamo dalle dimensioni è lunga 4 metri e 12 è alta un metro e 46 ha un passo di 2 metri 56 e ha una larghezza di un metro e 78 prima di tutto la sua sportività trassuda dapprima dal suo piglio estetico ecco allora la calandra nera gli sportivi paraurti anteriori e posteriori il diffusore posteriore e cerchi in lega con un diametro che arriva fino a 18 pollici spostandoci di nuovo al posteriore notiamo il lettering skoda sul portellone di serie tornando davanti si nota il cofono muscoloso e gruppi ottici anteriori spigolosi con tecnologia led di serie sono gli stessi fari della skoda fabia più normale l'anima sportiva che si respira all'esterno si respira anche all'interno dell'abitacolo il colpo d'occhio non è per niente male anche se abbiamo un abitacolo composto prevalentemente dalla plastica ed è anche una plastica rigida anche una plastica croccante come la parte superiore che è molto molto dura e nella parte inferiore che è croccante però abbiamo queste texture che vanno a coprire l'abitacolo che dà un bel colpo d'occhio come questa parte centrale simile fibra di carbonio che non è nient'altro che una copertura e poi questa lama che riprende il colore in questo caso della carrozzeria cucitura con il trasto bianco che si ritrovano anche sui sedili sportivi e poi abbiamo il volante a tre razze ridisegnato con queste questa copertura traforata che gli dà maggiormente un piglio sportivo insomma c'è davvero un bel colpo d'occhio all'interno della skoda fabia sport monte carlo l'abitacolo è digitalizzato ma senza cadere in eccessi ecco allora la presenza di un sistema di infotainment da 9.2 pollici coricato in posizione a sbalzo in centro alla plancia da cui è possibile gestire la multimedialità e la connettività della vettura è possibile accedere anche ad applicazioni come apple carplay e android auto c'è poi un bel cruscotto digitale da 10.25 pollici di serie con menu che indicano le principali informazioni di guida e dal design leggermente personalizzabile c'è anche il navigatore integrato con la mappa che permette di ingrandire gli incroci e mostrarli in una finestra separata com'è l'abitabilità ma come si sta sul divanetto posteriore com'è l'abitabilità della skoda fabia sport monte carlo allora sedile anteriore posto sulla mia altezza quindi un metro e settanta io abbastanza spazio per le ginocchia ho spazio per la testa e spazio per le spalle è un divanetto posteriore studiato per due persone quindi stiamo comodi se siamo in due c'è spazio per il terzo incomodo però c'è davvero pochissimo spazio per le sue gambe per i suoi piedi perché abbiamo un tunnel centrale molto rialzato i nostri ospiti posteriori potranno poi godere di due prese usb c due bocchette per l'aria orientabili nei flussi e non nella temperatura e poi manca qua il tunnel centrale in più abbiamo anche queste buste per riporre per esempio il nostro cellulare o magari il tablet com'è il bagagliaio quindi snoccioliamo ancora un po di numeri e parliamo del bagagliaio 380 litri di capacità setteremo il divanetto posteriore nella sua giusta configurazione quindi tutto su è un bagagliaio molto sfruttabile perché abbiamo un pozzetto laterale per riporre i piccoli oggetti un doppio fondo modulabile qua sotto c'è anche la ruota di scorta abbiamo poi gli appendini una luce di cortesia un'altezza da terra che come vedete non è non è non è elevata quindi è facile caricare su i nostri bagagli e poi in optional ci sono anche le cinghie per fermare al meglio e per ordinare i nostri bagagli come va la squadra fabia sport monte carlo ha un solo motore a disposizione ossia il benzina 1.5 da 150 cavalli come si comporta questo motore ha una bella castagna una bella coppia a partire dai minimi regimi e poi riesce a spingere senza sussulti o senza vuoti fino a 6.000 giri con il motore benzina c'è poi il cambio automatico dsg a 7 rapporti che riesce a sfruttare bene questa coppia questo range di utilizzo del motore per cambiare sempre in modo puntuale con una cambiata precisa anche in diverse situazioni di guida sia nella guida più pacata urbana sia nella guida un pochino più dinamica in quella extra urbana ma che sensazioni di guida mi regala questa squadra fabia sport monte carlo in verità descrivere il suo comportamento è abbastanza semplice perché è una vettura senza filtri è semplicemente agile e allo stesso tempo anche rilassante abbiamo un setup leggermente irrigidito leggermente ribassato da terra rispetto alla normale fabia quindi questo ci permette di avere un buon controllo della vettura in curva avere una vettura sportiveggiante ma che allo stesso tempo riesce a passare in denne anche sulle buche riesce a darci un bel comfort nonostante l'assetto leggermente irrigidito di lei mi sorprende soprattutto l'impianto frenante che ha un buon mordente e poi abbiamo anche una leva del freno che ha un buon feedback se c'è qualche neo lo percepisco nel volante che si comunicativo ma ha una zona morta al centro molto enfatizzata potrebbe avere un maggior carico soprattutto per una monte carlo per una vettura sportiveggiante in gamma come vanno i consumi anche qui ci sono delle notte liete perché comunque abbiamo dei consumi che al massimo anche con l'uso un poco più sportivo della vettura anche in autostrada al massimo il computer di bordo mi ha segnato un consumo di 6.5 7 litri ogni 100 chilometri ma basta adottare una guida più tranquilla una guida più urbana che si possono fare anche meno di 6 litri ogni 100 chilometri ovviamente sono tutti i dati che mi dà il computer di bordo il quadro strumenti la la scoda fabia sport monte carlo presenta anche una nutrita suite adas gli aiuti alla guida con il travel assist che fornisce un supporto automatico per la sterzata longitudinale e laterale a velocità fino a 210 km orari l'adaptive cruise control adatta automaticamente la velocità della vettura a quella dei veicoli che la precedono se necessario il sistema integrato lane assist esegue un input di sterzo correttivo e aiuta a mantenere il veicolo in corsia per la scoda fabia abbiamo la versione monte carlo e la sport monte carlo quella un pochino più sportiva che abbiamo in prova oggi con un prezzo di partenza che parte da 28.488 euro cosa mi piace e cosa non mi piace mi è piaciuto il suo handling la sua guidabilità il suo assetto irrigidito che comunque ne fanno una vettura anche per tutti i giorni e poi i suoi consumi e poi anche i freni che hanno un buon mordente cosa invece non mi è piaciuto il fatto che ci sia tanta plastica in abitacolo e il volante che ho trovato poco carico ora voglio sapere da voi cosa ne pensate della scoda fabia sport monte carlo fatemelo sapere qui sotto nei commenti seguite motore online sul sito e su tutti i nostri canali social e semplicemente al prossimo video